Raffaele Fava, presidente provinciale di Confessercenti, oggi presentate un altro evento dedicato allo shopping a Pescara di notte, dopo la Notte Bianca. Il terzo anno presentiamo questa manifestazione e contiamo di bisare il successo dello scorso anno con oltre 70.000 presenze, con i commercianti che hanno fatto degli ottimi affari e la città ha vissuto veramente una notte particolare e splendida. Nel concreto come si svolgerà e quali saranno i punti salienti? La manifestazione si svolgerà nel Quarilatolo, nel centro di Pescara, quest'anno abbiamo prolungato con Via Cesare Battisti, Piazza Muzzi e Via Gobetti. Praticamente i commercianti si autofinanziano, fanno tanti piccoli eventi della città e creano un camminamento continuo con eventi diversi nel Quarilatolo perdonare. Avete messo a disposizione dei cittadini, di quanti vorranno venire a seguire questa manifestazione, anche dei bus navetta? Abbiamo messo a disposizione un bus navetta che dal porto turistico, dove c'è un parcheggio ampio e comodo, porteranno tutti i turisti e le persone che vorranno soffrire alla stazione centrale di Pescara, quindi in centro per farsi una passeggiata nel Quarilatolo perdonare. Grazie Grazie